Non è importante quanto sei forte, colpendo tutti i tuoi punti vitali ti elimino, è meglio se ti arrabbi. Il mio livello di combattimento è di 500, 30.000. Preparatevi! Cominciate a co-dossare! Prendi questo! Toma! Ti illudi se pensi di poter competere con il mio salto temporale! Ora faccio sul serio! Sono me! Ahahahah! Svanisci! Ora si comincia! Svanisci! E già capò! Adesso hai capito cosa fare. Devi arrenderti.